Una mobilità sostenibile per la costiera amalfitana per coniugare la bellezza dei luoghi con l'accessibilità al territorio. Tanti progetti per la Divina dopo il nuovo parcheggio nei pressi della stazione ferroviaria di Vietri sul mare si punta a realizzare il secondo vettore meccanico di Vietri che collegherà la piazza principale con Marina per completare lo scambio intermodale. Lo ha detto stamani il presidente della commissione trasporti della regione Campania Luca Cascone non mancando di sottolineare l'importanza anche di altri progetti finanziati dal governo regionale per gli altri comuni costieri per la viabilità. Il tunnel tra maiori e minori per liberare il lungomare, una galleria da Amalfi per bypassare il centro, un bypass in roccia con la prosecuzione della circunvallazione verso Castiglione. Il presidente De Luca già nel 2016 ha deciso di investire 100 milioni di euro nella mobilità sostenibile della costiera amalfitana e sorrentina proprio per dare un contributo con interventi anche strutturali e infrastrutturali per migliorare quello che è un tema ovviamente molto delicato, quello dell'accessibilità, quello del traffico, quello ovviamente dell'utilizzo e della visita in territori che sono stupendi, unici al mondo e che noi dobbiamo continuare a valorizzare ma che ovviamente pagano un poco la sofferenza dei tanti tanti turisti che per fortuna arrivano al nostro territorio. Questi progetti stanno andando avanti, molti dei quali sono veramente in una fase molto molto avanzata. Uno di questi sarà il secondo vettore meccanico di Vietri, quello che collegherà la piazza principale con Marina in modo da completare questo scambio intermodale, la stazione con il parcheggio a supporto che abbiamo inaugurato oggi, il primo vettore meccanico già funzionante e il futuro vettore meccanico che speriamo da qua ai prossimi due anni di far partire come investimento e quindi come lavoro. Io credo che questi sono i progetti che la regione deve sostenere accompagnando le amministrazioni per la valorizzazione dei territori della provincia di Salerno e della Campania che sono unici al mondo e che ovviamente devono investire tantissimo nel turismo e in quello che è il sostegno a queste attività turistiche e ovviamente di servizi. Abbiamo questo progetto che i comuni minori e maggiori hanno portato avanti della galleria che dovrebbe liberare un tratto di lungomare, c'è molta polemica su questa galleria, ho cercato di spiegare a tutti che i progetti arrivano dopo essere passati entrambi in consiglio comunale di tutti e due i comuni, quindi il territorio già si è espresso. La regione non ha nessuna posizione né positiva né negativa, semplicemente ha predisposto una modifica al put per consentire di andare avanti nel litro amministrativo e quindi nella conferenza di servizi, sarà lì che poi tutti gli enti sovraordinati dovranno dare un giudizio sul progetto e eventualmente decidere se andare avanti. Se il progetto non fosse stato inserito almeno in linea programmatica nel put non si poteva proprio convocare la conferenza di servizi, quindi siamo ancora in una fase embrionale e successivamente si potrà discutere. Un altro progetto è quello della galleria di Amalfi per passare il centro e poterlo liberare. L'ANAS ha sviluppato due progetti per superare il centro di Praiano e Positano, due interventi quasi da 50 milioni che ovviamente sono molto invasivi ma sono molto importanti per liberare questi bellissimi posti da un traffico costante soprattutto di mezzi pesanti. Stiamo seguendo il project financing della Funivia a Gero e la Amalfi, insomma i progetti sono veramente tanti e diversificati e il parcheggio in roccia a Cetara, altro intervento molto importante, insomma veramente stiamo seguendo il territorio tutto quanto cercando di accompagnare la progetto Italia e le idee che hanno le amministrazioni. Ovviamente progetto esecutivo dopo il progetto esecutivo passeremo anche alla realizzazione. Grazie. Grazie.